DICONO CHE LE GUERRE SI VINCANO SOLO BATTENDO SUL'INCUDINE DELL'ONORE ALTRI PENSANO CHE LA VITTORIA RICHIEDA STRATEGIA E DOMINIO DEL POTERE ARCANO LA GUERRA E INGANNO Un gioco che conviene condurre nell'ombra Solo la forza e la potenza bruta possono assicurare la vittoria totale Ma te ne puoi sempre infischiare e... pensare solo a spassartela Hearthstone Heroes of Warcraft